Altra mostra di pregio organizzata dalla Fondazione Carifano, questa volta a Palazzo Corbelli, non a Palazzo Bracci Pagani, sugli impressionisti e le stampe. Come si combina, Professor Battistini, questa duplice azione dell'arte? Si spiega proprio con le caratteristiche di questo fenomeno, l'impressionismo, che non ha uno statuto, non ha delle regole, è aperto a tutte le sperimentazioni, a tutti i tentativi e quindi gli stessi pittori come Degas, come Renoir, come Pissarro, che appunto magari tendono a dare un'immediata percezione della natura nella pittura, nel dipinto appunto su cavalletto, poi magari quando sono alle prese con l'incisione, lì sviluppano una tecnica, una modalità operativa molto più complessa, con sperimentazioni, tentativi, magari anche tentativi che loro giudicano di insuccesso, che poi rifiutano, però ecco, la gestazione delle incisioni è sicuramente più lunga, più complessa e più sperimentale di quello che accade nella pittura. Ma è dovuto al fatto che questo gruppo di artisti non ha regole, non ha statuti, è aperto a qualunque tipo di procedimento. Quindi cosa vedremo venendo qui a Palazzo Corbelli? Vedremo tutta una serie, circa 100, quasi 100 incisioni di proprietà di collezioni private, che provengono da collezioni private e noi ringraziamo coloro che ce l'hanno prestate, che quindi non sono normalmente visibili, incisioni all'interno di una mostra divisa in quattro sezioni. Si parte dai pittori che hanno affrontato prima e magari anche in parallelo con gli impressionisti il tema della riproduzione della realtà, da Corot, a Miglie, eccetera. Poi c'è una sezione dedicata proprio a Edward Manet, poi c'è una sezione, la terza, dedicata proprio agli artisti che noi consideriamo impressionisti, come Renoir, Pissarro, Degas, eccetera. E poi si conclude con quei pittori che hanno sentito la lezione degli impressionisti, che ne hanno condiviso magari anche gli ambienti di vita e di lavoro, come Toulouse-Lautré, ma che aprono poi verso le poetiche successive, come il simbolismo. Allora diciamo, le prescrizioni d'uso quando inizierà la mostra, quando sarà aperta al pubblico? La mostra inizia domani, venerdì 18 ottobre, terminerà appunto il 2 di febbraio, quindi rimarrà aperta alcuni mesi, e nei giorni del fine settimana, venerdì, sabato e domenica, con appunto un orario molto comodo nel pomeriggio, e sarà a ingresso libero naturalmente.